Buongiorno, questo è un video recensione. Abbiamo appena montato l'aspiratore della Gemmi perché avendo un cammino con delle problematiche non potevamo accenderlo. Finalmente, dopo aver montato l'aspiratore in un paio di minuti, semplicissimo da montare, abbiamo acceso il fuoco. Come potete vedere il fumo lo aspira benissimo accendendolo col selettore a 3, l'abbiamo impostato a 3 come prima accensione, poi piano piano l'abbiamo spostato a 1 e funziona che una meraviglia. Silenziosissimo, che dire, lo consiglio a tutti. E per finire, ecco a voi l'aspiratore Gemmi montato all'esterno.